Buongiorno a tutti telespettatori di Classe NBC e benvenuti all'interno del nostro approfondimento dedicato al mondo del crowdfunding, CrowdItalia. All'interno di questo spazio noi cerchiamo di scoprire quali sono i progetti che hanno fatto, stanno facendo o faranno delle campagne di crowdfunding e portarli a voi telespettatori. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi Roberto Tonelli di Biogenera che innanzitutto saluto. Buongiorno Tonelli, mi sente, mi vede? Tutto a posto? Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ben ritrovato perché noi già c'eravamo sentiti un po' di tempo fa e questo diciamo che è un secondo round, secondo round anche sulla piattaforma crowdfunding per Biogenera. State facendo come detto una nuova campagna che è già andata in overfunding, però forse magari Tonelli facciamo un passo indietro, parliamo dopo della campagna. Spieghiamo ai nostri telespettatori chi è e cosa fa Biogenera perché il vostro settore è molto interessante, specie in questo momento. Prego Tonelli. Volentieri. Allora Biogenera è una SPA, è una società di biotecnologie farmaceutiche, è anche una PMI innovativa e che ha innanzitutto creato e brevettato una nuova modalità unica a livello internazionale per la generazione di una nuova era di farmaci personalizzati a DNA. Sono farmaci molto mirati che vanno a bloccare in modo specifico singoli geni mutati che sono la causa delle patologie. Questa piattaforma ha anche un nome, un brand, si chiama MyGenera. Da questo poi sono originati anche dei farmaci e questi farmaci sono in primis siamo partiti dall'area dell'oncologia e andando sempre a cercare situazioni di forte necessità medica, di incurabilità, partendo per esempio dal primo farmaco specifico per curare i tumori dei bambini. Infatti ad oggi purtroppo sono ancora la prima causa di morte a livello internazionale, nei paesi industrializzati sono in aumento e quindi c'è una fortissima necessità medica. noi sviluppiamo un farmaco ad hoc specifico per bloccare i tumori dei bambini e un altro anche per i tumori al seno che sono invece quelli che non rispondono alle terapie convenzionali. Adesso con la mammografia sicuramente ci sono stati degli avanzamenti ma ci sono ancora circa un 20% di tumori al seno che sono considerati incurabili e poi l'altra area nell'oncologia di interesse è quella dei tumori al polmone, il più associati al fumo, il cosiddetto microcitoma a piccole cellule che è altamente aggressivo e incurabile e noi abbiamo aggredito anche quest'area. Abbiamo già ottenuto delle designazioni molto importanti dall'Agenzia del Farmaco Europea e anche dalla Food and Drug Administration degli statunitensi che hanno disegnato questo primo farmaco come farmaco orfano e questo dà delle agevolazioni per raggiungere il mercato in tempi molto più brevi e analizzando il numero di pazienti anche più ridotto. Ultimamente ci siamo anche occupati ovviamente dell'area delle malattie infettive, in particolare siamo impegnati nello sviluppo di un farmaco specifico per il Covid, non un vaccino ma un farmaco. Ad oggi non ci sono farmaci specifici che vanno a colpire direttamente il virus ma chi ha già sviluppato l'infezione necessita di farmaci specifici e quindi noi abbiamo mirato a colpire direttamente il virus. Adesso contiamo di portare avanti i nostri progetti anche in altre aree non oncologiche in collaborazioni con farmaceutiche a livello internazionale. Insomma tanta carne al fuoco Tonelli da parte della vostra società e poi arriviamo anche magari a carne al fuoco che interessa maggiormente a noi oltre a tutti i vostri progetti. Però prima parliamo un po' della campagna. Allora, siete in campagna con quelli di CarFundMe, un obiettivo che era alla fine, adesso mi viene da dire, di 200 mila euro che è già dato in overfunding. Siamo ad un investimento pari a 620 mila euro, nonostante manchino ancora 20 giorni alla chiusura della campagna, un più 310%, tra l'altro quasi praticamente un 1% di equiti con questi 620 mila euro investiti e una valutazione dalla società che è quella che mi ha stupito. Siamo a 70 milioni praticamente Tonelli, conferma o smentisce il dato che vedo qua innanzitutto? Tonelli mi sente? È caduta la lina. Adesso lo richiamiamo, un poco male. Comunque ero curioso di capire questa valutazione di 70 milioni di euro per una società che fa crowd, forse è la prima volta che vedo un ammontare così importante per una valutazione di una società. un chip minimo che più o meno è sui 500 euro, 482, come detto una PMI innovativa. E la cosa che mi interessa poi analizzare con il Tonelli quando torna è la quotazione, perché è già stato avviato un processo di l'iter della quotazione su Euronext, Euronext però sulla Borsa di Parigi, dove vedevo che loro laggiù sono maggiormente specializzati sui bioteche e presumo sia anche per questo che hanno scelto quel segmento di mercato lì. Ora, progetti veramente molto interessanti, come sentivamo dall'amministratore della società, sono progetti, magari glielo chiederemo anche perché necessitano di trial o comunque di percorsi lunghi e costosi e eravamo curiosi in particolare di capire quanto costoso fosse magari imbastire un trial su un determinato farmaco, tra l'altro fatto a DNA della persona e quindi magari richiede ulteriori analisi o ci sono ulteriori richieste da parte degli enti di controllo. Allora, dovrebbe essere tornato, Tonelli è tornato? Sì, siamo tornati. Allora, non so se mi ha sentito, comunque ho lanciato moltissime domande. La prima era sulla campagna, voi come detto siete già in overfunding e la cosa che mi interessava erano i 70 milioni di euro di valutazione pre-money, è così o c'è un errore, Tonelli? No, questi sono i numeri che si muovono sul settore delle biotecnologie farmaceutiche che purtroppo, ed è anche un valore sottostimato rispetto a società comparabili che sono quotate sul Nasdaq, noi purtroppo in Italia siamo indietro in questo settore, quindi paghiamo in questa valutazione e anche il fatto che adesso ci affacciamo a livello internazionale, però i numeri, i valori di società comparabili alla nostra a livello internazionale sono anche molto più alti. Questo è un settore che assolutamente deve essere più sviluppato in Italia perché si è visto con noi, abbiamo adesso un processo di quotazione in atto e su Euronest abbiamo scelto la piazza di Parigi perché è la piazza più avanti in questo settore rispetto anche a Milano, sono quotati circa 70 società di biotecnologie farmaceutiche e quindi è una piazza che da questo punto di vista, in questo mercato è più avanti. Sono numeri sul farmaceutico che parlano in billions, in miliardi di euro, mentre noi più a livello nazionale siamo molto più su società che sono magari di dispositivi medici o diagnostici, ma non vere e proprie farmaci, farmaceutiche e su questi i numeri sono veramente molto più grandi e quindi io mi auguro, e il crowdfunding indica che i nostri investitori stanno capendo il momento, l'importanza del momento, l'Italia deve assolutamente fare uno scatto in avanti, la pandemia ha messo in evidenza come sia fortemente necessario che anche in Europa, anche in Italia ci siano società che portano innovazioni in questo settore, i brevetti sono arrivati dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra, ma non c'è ad oggi, scusate, i vaccini, sono arrivati dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra, ma assolutamente c'è bisogno di investire fortemente in questo settore. Noi siamo molto contenti della campagna, adesso avete già superato il 300% rispetto all'obiettivo iniziale, vedevi un obiettivo massimo di 2 milioni e mezzo, 20 giorni rimanenti, insomma c'è un po' di strada da fare. Abbiamo in ingresso anche questi sono quelli con cui sono già stati fatti i bonifici come ordini, adesso diciamo già superiamo anche il milione, quindi diciamo per la parte finale della campagna ci sono diciamo prospettive molto interessanti. Senta Tonelli, una curiosità, volevo capire perché voi siete in un settore che insomma quando becchi il farmaco che viene approvato e tutto quanto ed è il super farmaco, hai fatto, ne basta uno per coprirti insomma le prossime generazioni di azionisti della società, però per arrivare a quel farmaco lì, cioè ci sono degli step molto importanti e costosi, alla luce del fatto che voi fate farmaci poi specializzati, personalizzati a DNA, i trial e tutte queste cose qua, quanto costano Tonelli? Com'è l'approccio su questo tema? Allora innanzitutto noi come dicevo all'inizio ci focalizziamo su delle patologie con fortissima necessità medica e incurabilità e su queste le agenzie regolatorie di tutto il mondo riconoscono dei vantaggi nelle procedure per arrivare al mercato, quindi si parla di percorsi per farmaci orfani, questo dà la possibilità di arrivare al mercato analizzando un numero di pazienti notevolmente inferiore rispetto a un farmaco normale, qui si parla per esempio nel farmaco per i tumori del bambino, nel neuroblastoma che è il tumore più mortale, nei bambini attualmente la possibilità di arrivare fino al mercato con 50 bambini analizzati in tutto, quindi questi sono accorci i tempi e accorci anche le necessità delle risorse finanziarie, comunque a parte questo che sicuramente agevola tantissimo, la strategia di Biogenera è quella di fare, quello chiamato il business to business, quindi diciamo di fare delle partnership, delle accordi di licenza con società farmaceutiche per poi fare la parte finale e la commercializzazione, quindi diciamo che Biogenera è incentrata nel creare nuovi farmaci su patologie con forte necessità medica e incurabilità, fare la prima parte del percorso, poi fare degli accordi con le farmaceutiche, quindi questo modello fa sì che anche i costi finali che vanno chiaramente crescendo legati agli studi clinici siano anche sostenuti dalla farmaceutica partner, quindi questo è un modello chiaramente che non è che è inventato da Biogenera, però è un modello che sicuramente permette a una società come la nostra di concentrarci sulla innovazione, sulla ricerca, sul generare nuovi farmaci e fare partner con chi oggi è già presente sul mercato per arrivare a tutto il mondo, alla distribuzione. Senta Tonelli, siamo in chiusura, quali sono le tempistiche per la quotazione? Allora, sono già avviate, la quotazione è prevista entro la fine di quest'anno, quindi a valle della raccolta di crowdfunding, quindi ci sono sul mercato di Euronext di Parigi e questo permette, mi sembra una cosa importante di sottolineare, che con la quotazione comunque non verrà perso lo status di piccola-media impresa innovativa perché ci sarà la quotazione in un mercato di tipo MTF, quindi questo permetterà assolutamente, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, di mantenere lo status di PMI innovativa, anche i vantaggi, quindi oltretutto 30% di detrazione per chi investe e anche non ci sarà la tassazione sulla plusvalenza della vendita sul mercato. Quindi le tempistiche sono entro quest'anno sulla borsa di Parigi, che appunto è stata scelta perché a livello europeo è la borsa più, in questo momento, principale. C'è anche un indice dedicato alle biotecnologie che è il Next Biotech. Senta Tonelli, allora avremmo sicuramente modo di risentirci, io le faccio comunque i migliori auguri, sia per il percorso, per tutti i farmaci, come ha detto, poi sono farmaci molto importanti per la cura di determinate malattie, le faccio i miei migliori auguri per il percorso, anche per la quotazione, ma come detto Tonelli sono sicuro che avremo modo di risentirci. Alla prossima, Roberto Tonelli, grazie mille Biogenera. Alla prossima. Alla prossima, terminiamo qui, grazie mille, terminiamo qui il nostro approfondimento dedicato al mondo del crowdfunding, grazie a tutti per l'attenzione e rimanete su Classi MC. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.